Siamo nell'air stream del tour, FIFA Edition Tour naturalmente, tra Gatto Sonia Eriksson, con il nostro amico che si chiama? Gian Domenico. Gian Domenico che è di Napoli e tifa? Lazio. Allora, ho caricato a caso Lazio-Sampdoria che è poi la finale di Coppa Italia. Giochiamo, dai, vediamo come viene. Ok, partiti la Lazio in avanti, parte palla, subito Brocchi, c'è un batteri-batti a centrocampo, ancora... Non si capisce, eccolo qua, viene avanti, viene avanti, adesso la Samp credo sia Cassano, entra in aria, c'è il sinistro, la ribattuta della retroguardia, Ballotta che può rinviare, lancio lungo a scavolcare il centrocampo, viene anticipato Rocchi, poi c'è un batteri-batti, una mischia, è Ledesma, in posizione di aria destra, fronteggiato da un avversario, c'è un calcio di punizione, salta il replay, perfetto, tutto è pronto per la battuta, in questo istante Ledesma per... era Brocchi per Ledesma, in posizione di aria destra, il traversone è intercettato dal retroguardia della Samp che parte in contropiede, dunque la partita è finita, 0-0 il risultato tra Lazio e Sampdoria, giocato dal nostro amico Gian Domenico, forse poteva esserci un calcio di rigore, però vedremo, magari adesso continuerai a giocare con il nostro F305 della Sony Ericsson, e vedremo se riuscirai a vincere questa Coppa Italia. Intanto ci dai l'autorizzazione a mettere in onda questo video, così potrai partecipare all'estrazione per vincere un viaggio per due persone in Sudafrica, per la finale di Coppa del Mondo. Sì? Sì, come no, è normale. Con Sonia Ericsson e Gian Domenico ce ne andiamo in Sudafrica.